Ben trovati amici di Chemical Group. Per chi ancora non mi conoscesse, sono Nicola Giudice e ricopro l'incarico di responsabile sicurezza sui luoghi di lavoro. Oggi parleremo di RSPP. L'RSPP, come definito dall'articolo 32 del Decreto Legislativo 81, è il responsabile servizio protezione e prevenzione. È una figura designata dal datore di lavoro per coordinare il servizio di protezione e prevenzione dai rischi, quel servizio che protegge e difende i lavoratori dai rischi presenti in azienda. L'RSPP è colui che valuta i rischi presenti in azienda e pianifica il programma di miglioramento, atto a garantire la sicurezza dei lavoratori. L'RSPP, inoltre, collabora con il datore di lavoro, il medico competente e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ai fini della redazione del documento di valutazione dei rischi. Infine, l'RSPP, tra le altre cose, partecipa e coordina la riunione periodica, che si tiene almeno una volta all'anno. La nomina dell'RSPP è uno degli obblighi non delegabili da parte del datore di lavoro, così come leggiamo nell'articolo 17 del Decreto Legislativo 81. Può essere interno o ci si può affidare a un professionista esterno, in alcune tipologie di aziende anche il datore di lavoro può ricoprire tale incarico. Questo lo leggiamo nell'articolo 34 del Decreto Legislativo 81. Egli è responsabile se l'infortunio di un lavoratore avviene per una consulenza erroneamente resa. Quindi l'RSPP e il datore di lavoro sono responsabili se l'infortunio avvenga per una situazione pericolosa non preventivamente segnalata e riconosciuta. Per poter ricoprire l'incarico di RSPP è necessario possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore e aver partecipato a uno specifico corso di formazione che varia in base al settore di appartenenza e in base al codice Ateco. Il corso di RSPP può avere una lunghezza variabile in base al rischio che può essere basso, medio o alto e quindi avrà una durata rispettivamente di 16, 32 e 48 ore. Da anni Chemical Group offre il servizio di RSPP esterno. In tal caso sarò io stesso a ricoprire tale incarico. Nel caso invece di RSPP interno verrà effettuato un corso di formazione specifico, qui in sede o direttamente nella vostra azienda. Per maggiori informazioni non esitare a contattarci alla mail sicurezza-chemicalgroup.net o al numero 0323 61611. Alla prossima!